Siediti qui con me, tu chi vuoi essere? Perché ti stai comportando come una bambina piccolissima? Ma lo sai quanti anni hai? Ne ho così Così? Sì Dominic potrebbe aver bevuto una pozione nel te che l'ha fatta diventare una bambina piccola No, no, non fare così No, no, dalla me, dalla me, dalla me, dalla me Non ce la voglio dare Dominic, che c'è? Oh mamma mia Ma che fai? Leggi Scusa, scusa, allora Questa bambina mi tormentò Che stai facendo? L'elicottero Eccoci qui, siamo arrivati Seguimi Dominic, ti piacerà? Wow, ma che posto è? È un posto bello e rilassante Ma c'è buio qui dentro Ma dove siamo? Non mi ha guardato, siamo sotto terra Sembra tipo una grotta Ma che grotta Dominic? Siamo nella spa Ed è bellissimo, guarda Ah, ho capito cos'è Tipo un bagno gigante Ciao Un bagno gigante? No Sale? Oh guarda c'è il sale No, 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 si mangia questo No? No, quello serve per la pelle Per la pelle? Sì, per la pelle No, non è proprio così Non devi condirti No, no, no Che fai? È brutto Però c'è la piscina Però c'è la piscina Che bello Potevi dirlo subito che c'è la piscina Perché è calda? Perché è una piscina calda e rilassante Certo, è un po' strana Una piscina dentro una stanza Non capisco perché l'abbiano fatta qui Però è una piscina Quindi io vado in piscina Questo lì Aspetta Ma, ma, ma Oh no, oh no Entri così Ma quello lì dovevi appenderlo Vabbè, ci penso io Buongiorno ragazzi Io sono Eric E quella lì Quella bambina di 4 anni è Dominique Anche se voi la conoscete come una bambina di 24 anni E insieme siamo ed insieme Ed insieme sì Dominique si comporta in questo modo Per colpa di una pozione del dottor Timothy Una pozione che l'ha fatta diventare bambina E adesso si comporta come una bambina di 4 anni Una bambina monella di 4 anni E io sto badando a lei da giorni Io pensavo che l'effetto della pozione finisse presto E invece non finisce più E io non ne posso più Quindi ho pensato Andiamo in una spa Così da rilassarci Sia io, soprattutto io Che lei Dove, dove, ecco lei A Dominique piacciono molto le spa E sicuramente le piaceranno anche adesso che è bambina E sembra che stia funzionando Sembra tranquilla dentro questa piscina E finalmente smetterà di fare capricci Almeno per un po' Dominique 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 Oh mamma Dominique No, no, fai piano Fai piano, fai piano Dominique, piano No, no, non schissare Dominique, piano, piano Ok, piano però Dentro la spa non si fa confusione Se qualcuno ti vede fare così Ci cacceranno E una piscina rilassante Non schizzare Non schizzare Ci rimproverano Papà Non so nuotare Papà Aiutami Dammi la mano Ok, ok Ti tengo io Ti tengo io Non so nuotare Ma è bassa Basta stare dritti Ti prego Non affondare Mi insegni a nuotare? Cosa? No Tu sai già nuotare O almeno sapevi nuotare Fino a prima Papà C'è un pulsante Guarda A che serve? Un pulsante? Non lo so Però forse è meglio Non toccarlo Non sappiamo cosa può succedere Cosa? Ma 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 Che succede? Eh Ci sono attivate le bolle Nulla di preoccupante Non preoccupare Ma 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 Stai tranquilla Non fare così Si chiama Idromassaggio Idromassaggio No 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 Non Non messaggio Massaggio Perché L'acqua Ti fa dei massaggi Idromassaggio Mi fa paura E Spaventoso Ma Non è vero Anzi Sembra bellissimo Aspetta Ed entro anch'io Stai attento, sembra pericoloso questo posto. Ah, che rilassamento. Fammi andare verso le bollicine. Oh! Fa le bolle anche qui? Fantastico. Proprio come pensavo, super rilassante. Ho avuto proprio una buona idea di venire qui. No, 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 aspetta, aspetta, dov'è che vai? Aspetta. Ma no, sono appena entrato. Aspettami. Oh, Dominique, Dominique, sei qui? No. Dominique, dove sei? Dominique? Oh, sì. Perché ci sono le docce? Perché queste qui, anche loro, sono docce rilassanti. Qui è tutto rilassante, tutto quello che è normale, qui diventa rilassante perché è particolare. Guarda qua, si chiamano docce cromo emozionali. E sono proprio curioso di provarle. Speriamo questo. Oh, è fredda. È fredda. Vai, 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 è fredda. È fredda. Oh, è davvero fredda. Ma un po' fredda. Perché? Perché? Non fa puzza, fa odore, odore dei sali rigeneranti, ma fa freddissimo. Forse l'altra sarà calda. Com'è? È fredda. Ha manca un altro pulsante. Guarda lì. Ma cos'è? Questa è nebbia. Come nebbia? C'è scritto. Guarda, c'è scritto. Sono in mezzo alla nebbia. È una giornata ventosa e piena di nebbia. È fredda e calda. È fredda. È fredda e calda. Fa la luce, è carina. Voglio provarla. Wow. Ma è freddissima. Ma no, è bella. No, è freddissima. Dominique, vieni. Lascia stare queste docce. Andiamo a provare qualcosa di più caldo. Ti vedo tutto appannato. Eh sì. Andiamo. Mi raccomando, Dominique, facciamo molta attenzione. Guarda cosa c'è scritto. Il rituale del silenzio. Quindi cosa dobbiamo fare noi qui dentro? Molto. Dominique, molto. Molto. Dominique, molto. Molto. È un rituale del silenzio, quindi facciamo molto. Io che ne so. Io sono piccola. Devi fare silenzio, zitta, perché se non fai silenzio qui ci cacciano via. Quindi da ora in poi parla pianissimo, anzi facciamo proprio che non parli più. Stai parlando? Io posso parlare. Casa? Sì, io posso parlare. Non puoi parlare. Sì che posso. Stai zitto. Stai zitta. Tu stai zitta. Tu non puoi dire a tuo papà di stare zitto. Stai zitto. Stai zitto. No. Non ti ho insegnato questo. Oh no, sto cominciando a comportarmi come se fossi veramente suo padre. E di là cosa c'è? No, no, aspetta Dominique, ma abbiamo il permesso. Vediamo. Zona relax. Wow, ma che stanza elegante. E qui ci sono anche dei letti. Perché ci sono tanti letti tutti insieme? Sempre per rilassarsi Dominique, e poi ti ho detto di parlare piano. Sì, sì, ho capito, ho capito, parlo piano. Ma che divertimento c'è a parlare piano? Wow, voglio provare un letto lettino. Ah. È comodo. Ah, mi sembra una buona idea. Mettersi nel lettino a rilassarsi. Lo voglio provare anch'io. Adesso stiamo qui sul lettino e ci riposiamo un po'. E di là cosa c'è? Ma un secondo. Vuoi stare ferma? Un secondo. Che strani questi letti. Perché sono dentro una cassa? Oh mamma, si cade. Ma sembrano comodissimi. No. Come no? Sono strani. Fa vedere. Ma non sono dei letti normali. Questi qui sono dei letti ad acqua. Ad acqua? Sì, al posto della gomma, piuma o qualsiasi altra cosa c'è dentro. I soliti materassi. Qui dentro c'è l'acqua. L'acqua? Sì. Come l'acqua? È vero, sembra che c'è l'acqua. Non sembra. C'è l'acqua Dominica, fidati. E se si buca? Siamo nei guai. Ok, cambiamo stanza. È bellissimo. E come ci si alza da qui? Ragazzi, è difficilissimo. Sono a fondo. Ecco qua. È vero, sembra di essere sull'acqua. Mi sento un pesce. È bello. È rilassante, è vero? Sì. Però voglio andare a vedere gli altri giochi. Giochi? Aiuto, come ci si alza. Andiamo. Ma non sono giochi. Questi qui sono dei percorsi rilassanti. Dominique, Dominique. Papà? Sì? Papà? Giochi a papà. Ma sei pazza? Ma sei anche più grande? No, no, no. Ferma, ferma, ferma. Ferma, Dominique, ferma. Non vorrei mica che ci caccino. Ma non c'è nessuno. Meno male, mettiamo a posto. Guarda. Guarda, papà. Sì, sì. Anche qui dentro c'è l'acqua. Ma perché mettono l'acqua dappertutto? Questo è per fare ginnastica. Noi la possiamo... Ginnastica con l'acqua? Sì, sì. Ginnastica si chiama... Ginnastica acquatica. Sicuro? No, veramente no. Papà? Sì. Come si accende la luce? No, no, no. Ma qui questa stanza è una stanza rilassantissima. Guarda, ci sono anche dei lettini. Questa stanza serve per i massaggi. Ho capito, l'ho capito. Siamo all'ospedale. L'ospedale perché? C'è l'amparella. Ma che dici? Questa stanza serve per i massaggi. I massaggi rilassanti e io ne ho bisogno. No, questa è l'amparella. Papà, ma non lo sai? C'è l'ospedale. Ma noi stiamo bene. Andiamo. Ma guarda, è tutto così rilassante perché stai rovinando tutto. Smettila di correre. Io volevo rilassarmi. Adesso ti porto in un posto bello. Un posto molto, molto, molto rilassante. Vieni. Dove andiamo, papà? Ecco qui. Dov'è di questo? Come cos'è? E' un forno gigante. Fanno le pizze. No, 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 no. Non è un forno gigante. Questa qui si chiama sauna. E dobbiamo entrare. Cosa? In un forno. Dobbiamo entrare in un forno. Papà, attento. Ma è caldissimo. Papà? Fa caldo qua dentro. Si bruci. Non fa riuscire il calore. Entra. Oh, mamma. Stai bruciando. Non bruci. È fatto apposta. Vieni. Sicuro? Non bruci lì dentro. Ma no che non bruci. È fatto apposta. Per gli umani, non per le pizze. Dai, entra. Ho un po' di paura. Ma guarda che atmosfera bella. È tutto così rilassante. Poi guarda questa luce arancione. C'è il fuoco? Può darsi. Adesso fai come me. Mettiti qui e ti siedi. Non brucia. No, no. Dobbiamo aspettare di sudare, sudare, sudare. Stai sudando? No. Io sì, tantissimo. Che schifo. E adesso per riscaldare un po' l'atmosfera cambiamo un cucchiaione. Cos'è? Un cucchiaio. Devi cucinare? No, lo mettiamo sui carboni. Carboni? Sì. Fa fumo. Cioè, è vapore, non è fumo. Perché lo hai fatto? Così c'è un po' di vapore nell'aria. È bene. Papà, tu sei proprio strano. Ma no, guarda che piace a tutti quanti questo posto. Piaceva anche a te quando eri grande. Voi grandi siete proprio strani. Vabbè, io sento caldo, ciao. Ma è normale. È fatta... Oh. Ah, solitamente è lei che mi dice di stare in questi posti. E adesso scappa via. Dominique? Dominique? Dove sei andata? Guarda, qui c'è una stanza. Non è una stanza. Questo qui è il bagno turco. Ma c'è buio? Perché c'è sempre buio? È normale perché deve essere rilassante. Dominique, stiamo parlando. Hai visto? Già stiamo... Ah, c'è un pulsante. Sbagliando. Non funziona. Certo, certo. Perché non funziona? Forse non sappiamo attivarlo. Vabbè, dai, usciamo da qua. Ci sono tantissime altre cose da fare. Dai, dammi la manina. No. Come no? No. Dammi la manina. No. Perché? No. Dominique? Io voglio fare questo. Ma non sai nemmeno che cos'è. Dammi la manina. No. Esci. No, voglio fare questo. Ci sono tantissimi... Ma... Ma... Papà non... Accendilo. Papà non... Dai, voglio fare questo. Papà non sa come... Tu mi hai detto che ci divertivamo. Io veramente avevo detto rilassavamo, non divertivamo. Dominique. Non piangere. Non piangere. Non puoi piangere anche qui dentro. Dai, che se viene qualcuno... Questo... No. Shhh. Ai, facciamo questo. No, 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 no. Non è vero. Dai. Non vuoi farlo. Ah. Sei solo capricciosa. Dammi la mano. Dai, dai. Domina. No, io voglio fare questo. Basta, basta, mia. Ah. Papà non è vero. Basta. Appena usciamo da qua ti compri una cosa. Che cosa? Eh, qualsiasi cosa bevi che costa sotto i due euro. Vieni, ci sono tantissime altre cose da provare. Ci sono i giochi? Sì. Nessun gioco. Tante cose rilassanti. Rilassanti. Sì, sì. Andiamo. Guarda, ad esempio, questa qui non l'abbiamo ancora provata. Questa qui è acqua salata. Acqua salata? Sì, come quella della pasta. Calda e salata. Dai, entriamo. Perché dobbiamo entrare? Non ha senso questo posto. Oh, ma questa qui è anche più calda. Più calda. Fantastico. Bellissimo. Entra, Dominique. Entra. Oh, è bellissimo, Dominique. È bellissimo. E allora ti stai divertendo? C'è caldo. È normale. L'acqua è caldissima. Però è molto bella. No, è brutta. Ma come è brutta? È bellissimo. No. Sì. A Dominique normale sarebbe piaciuto tantissimo questo posto. Io sono Dominique e non mi piace. Mi sto annoiando. Uffa. Forse ho sbagliato. Forse l'affan non è proprio un posto per bambini di quattro anni. Speravo di rilassarmi oggi. Vabbè. Fa niente. Torneremo qui quando Dominique crescerà. Cioè, quando finirà l'effetto della pozione intendo. Non quando avrà altri vent'anni. Adesso ce ne andiamo, papà. Sì, andiamo. Oh, finalmente. Andiamo. Dai, torniamo in stanza e andiamo a cambiarci, Dominique. Dominique. Wow. Che c'è? E questo posto cos'è? Oh, sì. Questa qui è la stanza bambini. Quest'hotel ha una stanza bambini. Ma non ci interessa. Dai, andiamo. Aspetta un attimo. Ho sbagliato tutto. È qui che dovevo portarti. Che bello. È bellissimo. Ci sono le caramelle e i dolci. E guarda, ci sono anche peluche. Sì. Oh, è bellissimo, papà. Era una sorpresa. Voglio riportarmi qui. Grazie, papà. Oh, ce l'ho fatta. Ho trovato finalmente un posto dove lei sta tranquilla. Ed è anche vicino la FAA. Ciao, Dominique. Se mi cerchi, io sono lì, lì dentro. A rilassarmi. Tu gioca pure, ok? Divertiti tesoro. Divertiti. Ciao. Ciao. Ciao.